John Borno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video che non era assolutamente in programma, non doveva uscire, doveva uscire un video dopo ma insomma poi ne parleremmo, video che non era in programma ma oggi che è il primo novembre, quindi festa fra l'altro, oggi è festa quindi auguri, mi è arrivata questa notizia tra l'altro del cui fonte, fonte, me lo scriverete fonte, fonte mia ragazzi, fonte mia, la stessa che mi ha permesso di dirvi il giorno prima che Cristiano Ronaldo era arrivato a Torino, cioè che si è arrivato a Torino e tante altre news che vi ho dato precedentemente all'ufficialità perché ho questo possibilità ovviamente di dirvi qualcosa prima e questa ragazzi, orcio a raffreddore, questa ragazzi è l'ufficialità del momento, al di là del fatto che poi se ne parlava perché se ne era già parlato, probabile, chiusura eccetera eccetera, ve lo assicuro Marotta firmerà per l'Inter, Beppe Marotta sarà il nuovo direttore sportivo dell'Inter dopo l'addio ufficiale alla Juventus, ancora non verrà ufficializzato in questo momento, questi giorni perché non possono ancora ufficializzarlo, ci sono delle cose da limare, poi fra l'altro l'Inter, il direttore sportivo in questo momento non può annunciarlo Marotta ovviamente, però quando diciamo passerà del tempo noterete poi che Marotta diventerà ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell'Inter, quello sarà il suo futuro. Il contratto ancora non l'ha firmato per quanto ne so io, però ragazzi verrà firmato, c'è tutto, c'è, verrà firmato e quindi insomma poi ce ne accorgeremo. Ve ne parlo oggi, Marotta ragazzi per me è un colpaccio, questo più di Spalletti, più dell'acquisto di Cazzarone, di Nainggolan, più dell'acquisto di Skriniar l'anno scorso, più dell'acquisto di De Frequistano, questo riporterà l'Inter su. Perché Marotta è un vincente, Marotta è un vincente ragazzi, perché Marotta è andato alla Samp, ne parlavo ieri, e ha portato la Samp al quarto posto, è andato alla Juventus, si ha vinto sette scudetti di fila. Probabilmente quest'anno ci sono sali dei problemi interni, non lo so, questo non lo so, su questo non ne ho idea, però hanno capito che c'era qualcosa che non lo so, non andava, la Juventus si ha voluto cambiare, ne abbiamo parlato tanto, no? Siamo rimasti tutti più o meno sorpresi, Marotta diventerà il nuovo direttore sportivo dell'Inter, questo per me ragazzi sarà il motivo principale per cui l'Inter ritornerà in alto. A questo punto vedendo un allenatore come Spalletti in panchina, una squadra come quella dell'Inter e un direttore sportivo come Marotta, io credo che l'Inter in questo momento abbia tutte le credenziali per poter fare la lotta allo scudetto alla Juventus. Non quest'anno, attenzione, non quest'anno, ma negli anni futuri ovviamente, all'Inter serviva uno che comprava bene, che sapeva fiutare, che sapeva muoversi, non che poi io voglio andare contro l'attuale direttore sportivo dell'Inter, perché poi oggettivamente ragazzi, e ha preso Nainggolan, e ha preso Lautaro, e Skrinar l'ha preso lui, e ha preso De Frey a parametro zero, e Asamo a parametro zero, ha scoperto Cancelo, non è riuscito ovviamente a riscattarlo, però ti ha preso De Frey, e comunque anche a centrocampo si è messo piuttosto bene, cioè alla fine l'Inter ha una gran bella squadra, questo sarà il passo in più, il grande passo in più, che servirà all'Inter, semplicemente ragazzi, a diciamo crearsi sotto una base solida, per ricominciare a vincere, e ragazzi, oggi che vi do l'ufficialità, anche se anzi tempo, e poi lo andrete a vedere ovviamente, di Beppe Marotta, oggi che vi do l'ufficialità, penso che si apra una nuova era, da qua in poi, in poi, al di là di Spalese, al di là di Zanga, al di là del mercato, al di là di come sta andando l'Inter, da oggi in poi l'Inter, volterà pagina, e comincerà la nuova era, voglio sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando, mi piace, tanti, 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 mi piace, se ti è piaciuto, dislike se ti ha fatto cagare, ma spiegami il perché, iscriviti, iscriviti, iscriviti al canale, se ancora non l'hai fatto, grazie di aver visto questo video, buonasera dall'alene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video!